Dopo un'attesa durata 37 anni è stato presentato il nuovo civico museo archeologico di Camaiore, realizzato nel complesso del palazzo Tori Massoni in piazza Francigena. Una preview, quella voluta dal sindaco Alessandro Del Dotto, per salutare la fine dei lavori nella giornata che celebra la festa del comune di Camaiore per i suoi 179 anni. L'apertura pubblica del museo avverrà nei primi mesi dell'anno, appena saranno completati gli ultimi adempimenti burocratici e appena avvenuta l'installazione, nei primi giorni di gennaio, del software necessario per il funzionamento dei touchscreen. Le varie sali formano un ideale percorso tra la storia di Camaiore e lo scenario mediterraneo che parte dalla preistoria sino al rinascimento, passando per la storia romana, medievale, fino agli approfondimenti sulla via Francigena che passava proprio di fronte al sito del museo. L'idea è quella di dare un museo di alta valenza didattica che con la componente tattile, decisamente importante, possa aprirsi a nuove esperienze di fruizione delle testimonianze del passato, nel quale è possibile anche riconoscere le tracce della specifica storia di questo territorio. Dal 77 che, pensiamo, fondai un gruppo apposta, un gruppo archeologico, perché si arrivasse poi a questa soluzione, il museo. Sono passati 37 anni, ma la burocrazia purtroppo a volte ha tempi molto più lunghi. Oggi finalmente si riesce a vedere questo museo, ovviamente poi sarà sicuramente migliorato anche nel tempo. Nel frattempo che rispolveriamo la via Francigena, la riscopriamo, nel frattempo che ultimiamo l'ostello, avere una struttura museale come questa, in tempi in cui i comuni faticano a mantenere le strutture museali e spesso sono costretti a chiuderle, per noi invece è un punto di partenza importantissimo. Grazie. Grazie.